Siamo con il mister Del Vado, mister oggi tre punti importanti considerando anche i risultati della Cairese del Pietraligure. Sì, i risultati non li so, poi me li guardo dopo, sono un po' più tranquillo. No, direi bene, sono contento nel senso che i ragazzi oggi hanno sviluppato diciamo quello che facciamo durante la settimana, perciò direi che questo è l'aspetto più importante. Sono contento per i giovani, sono contento per Balbi, il portiere, per Tecchiati, per Danino che oggi tutti e tre hanno fatto un'ottima partita, processo D'Antoni gli ultimi 10 minuti 2002 bene e direi che comunque si è visto, insomma si è visto, si vede l'idea di squadra, si vede l'idea di gioco, si vede l'idea del voler vincere, si vede l'idea di aiutarsi sul campo. Devo dire comunque oggi abbiamo quasi fatto quasi fin troppo bene, nel senso che abbiamo girato molto bene la palla, probabilmente è mancato qualcosina forse nel primo tempo che magari potevamo finire il primo tempo di essere in vantaggio di un gol, però comunque devo dire che abbiamo giocato contro una squadra difficile, contro una squadra che anche soprattutto davanti hanno dei buoni giocatori e niente, devo dire che comunque oggi direi che i ragazzi sono stati bravi perché era la prima partita del giorno di ritorno, volevamo continuare diciamo ad avere quell'indirizzo che abbiamo dato della partita contro la Cairese, l'ultima di campionato. Niente, devo dire che i ragazzi sono stati bravi, hanno interpretato bene la partita, siamo stati pazienti durante l'intervallo perché eravamo solo 0-0, però come ho detto i ragazzi ci voleva anche la pazienza giusta per cercare poi di arrivare ad avere la situazione per poter buttare la palla dentro e niente, sono contento perché i ragazzi direi che hanno fatto una buona partita. Si chiedeva al Vado questo cambio di mentalità e soprattutto cambio di passo, a mio avviso direi che ormai ci siamo. Sì, no, sul discorso della mentalità, vabbè, è un discorso che si cerca sempre poi di dare la mentalità giusta alla squadra, la mentalità che deve avere il gruppo, la mentalità che comunque avevamo anche prima, probabilmente prima eravamo un po' forse un po' discontinui per quanto riguarda i risultati e devo dire che insomma continuando a lavorare con serietà durante la settimana anche sotto il punto di vista appunto dell'approccio mentale, il punto di vista diciamo anche caratteriale nel senso di partire subito, cercare di giocare poco la squadra avversaria, di essere aggressivi, devo dire che comunque i ragazzi credo che questo oggi l'abbiamo fatto bene come domenica scorsa, perciò devo dire che mi auguro che la società oggi abbia visto una buona partita, noi siamo contenti per quello che abbiamo fatto e è chiaro che dobbiamo continuare a lavorare e continuare ad avere quest'idea perché è chiaro siamo contenti perché poi le vittorie ti portano poi a vincere, ti aiutano ad avvicinarti a fare bene anche le partite poi che verranno dopo, però devo dire che i ragazzi, bene, sono contento perché vedo un gruppo affiatato a prescindere poi dalle qualità, poi le qualità sì, le qualità sono importanti, però è un campionato questo dove credo che lo stare bene insieme dal punto di vista dello spogliatoio sia addirittura più importante, perciò devo dire che sono contento di quello che sta facendo la squadra. Il Chitolina ormai è pronto con il Manterboso che potrebbe aiutarvi ancora di più nella manovra del vostro gioco? Sì, no, intanto mi piace dire, insomma mi piace anche dire, sottolineare il lavoro della società, il lavoro del Presidente perché sono anche prese di, insomma, sia a livello finanziario, economico, però insomma sono anche, insomma la società quando fa queste cose noi siamo contenti perché vuol dire che la società ci crede, che la società è importante, che la società crede, diciamo qua a Vado, di poter, diciamo, avere delle gioie, di avere delle soddisfazioni, perciò intanto siamo contenti per tutto ciò che ha fatto la società e in particolar modo il Presidente. È chiaro che il Chitolina, è chiaro che il Vado deve giocare al Chitolina per una questione storica, per una questione, insomma, di un po' di tutto, siamo molto contenti di iniziare a vedere il manto verde, diciamo, di l'architolina e probabilmente il fatto che il campo sia più grande ci potrà dare la possibilità, chiaramente, di sviluppare magari il gioco negli spazi anche nel modo migliore, ecco tutto qua.